Tornano le competizioni di Orienteering con le gare cittadine di Comacchio, due le prove in calendario che vedranno via gli atleti specializzati nelle sprint. Qui abbiamo visto prima Comacchio, ora la cartina realizzata per queste due prove Coppa Italia, grande successo in termini numerici con 750 iscritti la domenica, pochi meno il sabato, un dato che conferma la voglia di tornare alle competizioni, organizza la polisportiva Masi, società leader del movimento che lo scorso anno ha saputo arrivare sul gradino più alto del podio tricolore. Rieccoci con la nuova stagione dell'orientamento, bentrovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e come sempre quando si parla di bussola e cartina da Pietro Ilarietti. Ciao Pietro! Ciao, buon anno di Orienteering, bentrovati! Oggi si riparte tra l'altro da questa location che direi per noi insolita, siamo abituati a stare nei boschi, in montagna, invece oggi siamo proprio vicino al mare e siamo a Comacchio, location splendida che come dicevi anche tu assomiglia un pochino a Venezia. Quindi percorsi quasi labirintici disegnati dai tracciatori della polisportiva Masi, un gruppo tecnico decisamente qualificato perché infatti compongono anche lo staff che poi darà vita alle gare di Coppa del Mondo a Genova e poi i mondiali, sempre gli Urban che si terranno in Italia. Ma andiamo credo subito nel vivo di questa corsa, qua la geolocalizzazione e poi ascoltiamo la voce dei protagonisti. Il benvenuto del territorio a cura del vice sindaco di Comacchio, Maura Tomasi. Buongiorno a tutti e benvenuti naturalmente a tutti i nostri ospiti. Siamo felici di ospitarvi nel nostro paese, paese di cultura, paese di archeologia. Ricordiamo che siamo la culla etrusca, non a caso lo scorso anno abbiamo inaugurato i 100 anni della scoperta di Spina. Abbiamo un fantastico museo, il Museo del Delta Antico, dove non solo ci sono alcuni reperti etruschi ma anche reperti importanti con la scoperta negli anni 90 di una marca appunto di origine romana. Comacchio è anche enogastronomia, è conosciuta come quella che produce l'anguilla e Comacchio è capoluogo del Parco del Delta del Po. Auguro ai nostri competitori di divertirsi e vinca il migliore. Siamo con un trio di tracciatori di grandissimo livello. Avete tracciato questa sprint e vi preparate anche a tracciare sprint ancora più importanti? Sì esattamente, abbiamo tracciato io e Samuele in particolare oggi e domani le sprint qua a Comacchio. Siamo anche lo staff dei mondiali delle Coppe del Mondo di Genova, Coppe del Mondo di quest'anno e mondiali del 2026. Che cosa troveranno gli atleti a Comacchio che poi si ripresenterà magari a Genova? Sicuramente troveranno una cura nel dettaglio e cercheremo di offrire dei percorsi adatti stando sempre nei limiti tecnici. Siamo uno staff collaudato, cerchiamo di mettere tutta la nostra esperienza anche in campo per farvi divertire. Quali in particolare i tranelli che gli atleti troveranno qui a Comacchio? Beh oggi sicuramente troveranno un'area residenziale abbastanza intricata con tante zone di giardini e di garage con dei passaggini anche abbastanza complessi e domani sorpresi. E allora si torna a gareggiare dopo un lungo inverno che ha visto gli atleti riprendere da tempo confidenza con mappe, la vediamo, e bussola sostenendo numerosi camp di allenamento sia in Italia che all'estero al Via per le prime due prove stagionali. Molti dei protagonisti della stagione 2024, Pietro. Sì, è così, ci sono qualche assenza, i ragazzi della PVT ad esempio sono impegnati in un camp nel Sud Italia, però il resto del, ecco qua, Anna Pratelli, il resto del, diciamo così, degli elite, dei grossi calibri dell'Orienteering sono presenti in una gara sicuramente spettacolare, una partenza in questo quartiere che presenta dei caseggiati, diciamo, quasi colonici e poi invece si entra poi in quello che è la parte veramente bella, qua Giacomo Zagonel, un altro sprinter che è appunto questo centro storico molto complesso da interpretare, presenti anche gli svizzeri, lo vediamo qua con la divisa del Fonzaso, ma è svizzero, Tobia Pezzati con la sorella Elena e poi un'altra delle grandi favoriti, Maddalena De Biasi. Allora, si diceva per quanto riguarda le prove elite uomini tutti i favoriti, Francesco Mariani lo è sicuramente, Enrico Mannoci l'abbiamo visto, Giacomo Zagonel, Damiano Bettega e poi via via tutti gli altri, al femminile sicuramente Maria Chiara Crippa, Alice Selem, Francesca e Caterina De Nardi, Selena Pezzati, come diceva il nostro Pietro, ci sono anche i finlandesi per l'occasione. Sì, ci sono, ci sono perché evidentemente sono attratti da questa location così particolare, qua vedi c'è questa prima fase qua con Lucia Rigoni, in mezzo a questi caseggiati è tutto diverso, una parte decisamente tecnica, mentre domani assisteremo a un percorso che parte nella, diciamo così, nella zona nord di Comacchio, dove saranno presenti anche delle barriere artificiali, oggi invece più tecnica. Sì, i percorsi sono diversi, si snoderanno in due zone diverse del centro storico, con caratteristiche assolutamente diverse, come ricordava Pietro, tra un giorno e l'altro, a prima vista l'area di gara ricorda ovviamente le calli di Venezia con i diversi canali d'acqua, come abbiamo già avuto modo di ricordare, la gara è valida anche come prova inaugurale di Coppa Italia di Corsa Orientamento, lo ricordiamo ancora una volta all'appuntamento di Comacchio, anche il commissario tecnico Stefano Raus per vedere in azione soprattutto gli elite, le gare ferraresi poi saranno sicuramente interessanti dal punto di vista tecnico, perché vedono come tracciatori e cartografi gli stessi impegnati nella Coppa del Mondo di Genova e nei mondiali cittadini del 2026, i nostri Tenani Curzio e Lucia e Samuele, che abbiamo già visto in intervista, quindi li attende davvero un lavoro impegnativo, no Pietro? Sì, abbiamo anche appena visto Caterina De Nardis, che è un'atleta della società organizzatrice, e quindi sicuramente sarà stata preparata a dovere dai tecnici, perché la Polisportiva Masi, con Giulia Fignon che sta realizzando un ottimo tempo nella categoria V20, è una delle favorite, dicevamo la Polisportiva Masi, che è una Polisportiva molto grande, comprende tantissime discipline, per quanto riguarda la sezione orientamento, essendo poi basati vicino a Bologna, a Casalecchio di Reno, hanno proprio questa cultura del sprint, quindi sono sicuramente ragazzi molto preparati in questa specialità, qui Anna Pradel, che invece è più una donna da bosco. E sulla Polisportiva Masi ci sarà anche un focus all'interno di questa nostra prima puntata, dedicata all'Orienteering della stagione 2024, no Pietro? Sì, con il presidente Ventura, che ci spiegherà un pochino, il meglio, la potenza di questa realtà, da migliaia di tesserati, incredibile, con anche tanti collaboratori e tanti lavoratori, perché poi, sai, anche quest'anno c'è entrata in vigore la riforma dello sport, quindi tante problematiche anche lì da gestire, quindi anche da un punto di vista manageriale, una Polisportiva molto molto strutturata ed evoluta. Laura Carluccio, un'altra ragazza della Masi, è qua una panoramica di quello che è un po' tutti concorrenti gara, si capisce un pochino la complessità e la differenza nelle scelte di percorso di questi atleti. In una mappa decisamente interessante, qua siamo ancora con Anna Pradel nella prima parte di percorso, mentre qui Marco Anselmo Di Stefano sembra già entrato in questi vicoli molto stretti, dove bisogna stare attento a non commettere errori, diciamo così, anche paralleli, ossia non bisogna confondere uno di questi viottoli così con quello magari adiacente, quindi qui ecco un errore se ne è accorto e torna subito indietro. Sì, non facile lì, proprio perché nel dettaglio la gara presenta questa prima parte che abbiamo visto del percorso decisamente tecnica e una seconda che abbiamo visto con l'atleta della Polisportiva besanese si presenta molto intricata, è il caso di dire, con le vie strette del centro storico in riva ai canali, in particolare è questo, tutt'altro che secondario, e che ha fatto sbagliare, come abbiamo visto anche prima, o quantomeno ritardare, forse è meglio dire, molti atleti sulle scelte di percorso, no? Sì, sì, bisogna stare veramente attenti, quindi uno grande sforzo anche mentale, abbiamo parlato tra l'altro della Polisportiva Masi, sono ben 7.000 i tesserati della Polisportiva Mare, Masi comprendente anche un buon numero di Paralimpici che puntano a Parigi 20-24, quindi un grosso in bocca al lupo anche a loro, e qua Samuele Tait, un uomo che nelle sprint è sempre andato bene, ma dando un pochino un occhio ai rivali di oggi di Tait, potrebbero essere Mattia Scopelto, Biappezzati, Mariani, Zagonel e lo stesso Marconselmo Di Stefano, che è un giovane che però va sempre molto bene, qua Elena Pezzati, anche lei più donna da bosco, diciamo che sicuramente la favorita oggi è Maddalena De Biasi, poi attenzione a delle giovani come a Guenda Zaffanella dell'Orientiri in Como, è una novità nel mondo elite, e poi Anna Pradele e la stessa Caterina De Nardis che corre nella società di casa, è un uomo molto pericoloso, è anche Tobia Pezzati, ora inquadrato. Eh sì, abbiamo visto la sorella Elena, ora Tobia Pezzati, abbiamo visto anche questi canali della piccola Venezia di Comacchio, Giulia Fignon, se mi perdo, Orienteering, Maniago. È prima, è prima, è una delle favorite, arriva Elena Pozebon che invece non ha lo smalto dei tempi migliori, molto difficile tra l'altro qua in questi canali che bisogna stare attenti sia al, diciamo così, al pubblico, a stare concentrati sulla mappa e anche a non finire in acqua, mi ricordo una volta a Venezia, ricordiamo un concorrente finito in un canale, qui Anna Pradele, buon tempo per lei, è un tempo che potrebbe valere il podio, in questa zona qua, ricordiamo siamo a Comacchio, e siamo nella zona del Delta del Po, Caterina De Ardis molto bene, fa meglio di Pradele, al momento è davanti a lei, ma migliore di tutti, era la favorita, è Maddalena De Biasi del Tarso, quindi Sodalizio Veneto del Trevigiano. Grande tempo per lei, 14 e 10, arriva con la classica galloppata finale, Samuele Tait, Ground Light Orienteering per quanto riguarda Tait, Giacomo Zagonel, Polisportiva Masi, e anche lui sta facendo un buon tempo in questo momento, vedremo poi anche Mariani Pezzati e Scopel come dicevi tu, e intanto anche Enrico Mannoce all'arrivo, sempre Polisportiva Masi, l'avete poi ripescato il concorrente che ha finito nel canale a Venezia, sì. Attenzione, è molto bene Scopel che fa registrare finora il miglior tempo, fuori invece non bene Elena Pezzati oggi, invece aspettiamo qua, arriva... Tobia Pezzati, Fonzaso deve ancora arrivare, Francesco Mariani che sta facendo davvero una grandissima gara invece il ragazzo Polisportiva Masi, un Francesco Mariani che vuole partire al meglio in questa nuova stagione 2024 dell'orientamento italiano, ma che vuole affermarsi anche a livello internazionale, taglia il traguardo, il miglior tempo, il suo 13 e 11, gran tempo dunque di Francesco Mariani Polisportiva Masi che va davanti a tutti. E lui è veramente bravo, il perugino che ha studiato a Bologna e per questo veste i colori della Masi, vediamo il tempo, vede Mariani 13 e 11, dietro Pezzati, poi Mattia Scopel tra le donne, Maddalena De Biasi davanti a Caterina Denardis e Anna Pradella, un minuto e 16, ma andiamo subito ad ascoltare tutte le loro emozioni. Le emozioni di questa gara, di questa prima prova di Coppa Italia in quella di Comacchio, allora ricordiamo Francesco Mariani Polisportiva Masi 13 e 11, ha vinto la gara al maschile, Maddalena De Biasi orientino in Tarzo 14 e 10 il suo tempo, ha vinto la gara al femminile, dietro di lei la Denardis e la Pradella, dietro a Mariani Pezzati e Scopel. E ovviamente un 2-3 e i podi e ora la voce dei protagonisti di questa gara. Francesco Mariani, esperto di sprint, si poteva cominciare meglio questo 2024? Sì, un anno che è cominciato alla grande, dopo un lungo periodo invernale in cui ho abbastanza caricato, era importante arrivare qui freschi per vedere come stavano le gambe, come era la tecnica e direi che il riscontro è positivo. Domani un pronto bis? Eh dai, speriamo anche domani di fare bene. Maddalena De Biasi, dopo un grande 2023, subito bene anche qui a Comacchio nel 2024? Sì, sono molto contenta, ho commesso un po' di errori di scelta, però mi sono trovata spesso in ritardo di lettura e ho sbagliato anche le scelte più lunghe perché non riuscivo a prepararmela in tempo. Però è andata bene, e domani? Domani si vedrà. E questa era la voce di Maddalena De Biasi, orientini in Tarzo che si è giudicata la prova femminile, questa prima sprint della stagione con il tempo di 14.10, Francesco Mariani ha vinto invece la sprint al maschile, poi si sportiva Masi, 13.11 il suo tempo. Ora il focus sulla società che organizza questa gara, che ha organizzato queste due giorni di gara. Siamo con Andrea Ventura, presidente della polisportiva Masi, una polisportiva importante. Che cosa vuol dire questo sodalizio per l'Emilia Romagna? Vuol dire una polisportiva che nasce 60 anni fa, con una piccola squadretta di calcio che si chiamava Valdosauro e negli anni, in tutti questi 60 anni, siamo riusciti a raggiungere oltre 7.000 soci che fanno svariate attività, molte discipline, siamo affiliati a molte federazioni differenti, la FISO come in questo caso, e abbiamo 420 lavoratori sportivi, tra dirigenti e lavoratori dello sport. Quante sezioni avete? Cambiano di anno in anno le attività, iniziano e finiscono, però ho 25 attività differenti. Più ogni attività contiene al proprio interno diverse possibilità di fare particolari sport. Abbiamo la Federazione Ginnastica d'Italia, la palacanestro, la pallavolo, il patinaggio, il nuoto, il nuoto agonistico, il nuoto paralimpico. Abbiamo il badminton con un atleta che ha partecipato ai campionati del mondo e sta provando ad andare a Parigi alle Olimpiadi, un atleta paralimpico. E poi campioni internazionali nell'Orienteering, che è l'evento di questo weekend. Qua siamo a Comacchio, 750 partenti per ogni giornata di gara. Un grande lavoro per voi? Un grande sforzo organizzativo di tutto lo staff dell'Orienteering, che sono molti mesi che lavorano per l'organizzazione di questa manifestazione importante per noi e per la Federazione, ovviamente. Nel futuro della Polisportiva Masi fare lo sport, sì agonistico, come lo dimostra anche questa manifestazione, di alto livello, ma anche fare lo sport per tutti quanti. Quindi una Polisportiva Masi all'insegno dell'inclusione e buon lavoro per i vostri progetti futuri. Grazie, grazie davvero. Qui siamo già impegnati anche noi a seguire la seconda giornata di gare qui a Comacchio, in questa località molto suggestiva. Molto suggestiva, come vedi una partenza che oggi è più dentro, diciamo così, la parte caratterizzante di Comacchio, che presenta questi canali. Canali che in parte durante i secoli sono stati prosciugati, anche per permettere ora una maggior viabilità anche con gli automezzi. Si pensa che a Comacchio, che presenta tantissimi monumenti bellissimi, città che sta sull'acqua, ma l'acqua, quella dolce, era una grande risorsa. Quindi c'era proprio il commercio dell'acqua che veniva presa alle fonti più a nord, perché qui l'acqua scarseggiava. Maddalena De Biagi, grande protagonista della prima giornata, ma lo sarà sicuramente, oso dirlo subito, anche della seconda, perché chiaramente questa è la sua specialità, è in grande forma, l'ha già dimostrato. Giacomo Zagonel, Tobi Apezzati, chi ieri ha fatto davvero benissimo, secondo, per lui secondo posto, e qui il vincitore Francesco Mariani della prima prova sprint, della prima prova di Coppa Italia di questa stagione 2024 dell'Orienteering. La prova odierna si svolge nella parte nord di Comacchio, presenta una serie di caratteristiche architettoniche di assoluto pregio. I tracciatori hanno fatto, devo dire, di tutto per mettere alla prova, sia nella gara di sabato, ma anche in quella di domenica. I concorrenti si correva prima in poriferia e poi nel centro storico, sebbene le due gare sembrino in qualche modo simili, in realtà erano anche molto, molto diverse. Infatti quest'oggi ci sono una serie di ostacoli artificiali, come ricordavi tu, in apertura di questa nostra sintesi dedicata al due giorni di Comacchio, ad aumentare le difficoltà per i concorrenti. Sì, è così, qua siamo lungo un canale, siamo in una zona del mattino, quindi ancora non c'è così tanta gente, gente che però arriva perché è anche la giornata nazionale del FAI, quindi tutti i monumenti aperti di questa splendida, veramente città, una grande sorpresa. Francesco Mariani che sta andando sicuro. Sai, la prima gara di stagione è un po' sempre un'incognita perché arrivi, ti sei preparato, mentre pezzati anche qua che va veramente spedito anche in mezzo al pubblico. Dicevamo, non sai mai qual è il tuo punto in quel momento e quindi sei voglioso proprio di confrontarti con gli altri. Mariani e De Biasi stanno andando dentro dritti perché sia lui che lei sono primi in tutti gli intertempi, quindi sono in questo momento probabilmente i più in forma e gli italiani più forti in questa disciplina. Forse questa seconda delle due prove di Comacchio richiede più forza esplosiva rispetto alla prima gara, che era in qualche modo più tecnica? Sì, può essere, bisogna lasciare andare un po' di più, bisogna magari correre di più e guardando un attimino anche ai giovani, molto bene Edoardo Pellegrino Tecco, un piemontese, bene anche Lorenzo De Biasi e Francesco Ognibene tra le donne. Oramai la giovane promettente, quest'anno ce l'ha confermato anche il commissario tecnico Raus, Giulia Fignon è la ragazza che ha fatto i progressi più importanti, quindi è lei la candidata a combattere così l'egemonia di De Biasi tra le donne, quando passerà in elitto ovviamente. C'è ricambio dunque per gli atleti dell'Orient Tiring azzurro ad assistere alle gare, tra l'altro c'è anche il presidente Fiso Sergio Annesi, ovviamente il presidente della Polisportiva Masi Andrea Ventura che abbiamo visto in intervista e che organizza queste due giorni Polisportiva, ricordava il nostro Pietro che ha oltre 7000 tesserati e poi ci sono anche gli amministratori locali di Comacchio a partire dal vice sindaco Maura Tomasi, oltre ai vari assessori, quindi insomma c'è anche una partecipazione istituzionale per quanto riguarda queste prove, ci credono e questo fa sempre piacere. Ci credono e tant'è che hanno dato una grande dimostrazione, un bel supporto alla Polisportiva Masi, ricordiamo l'amministrazione di Comacchio, la pulizia municipale, poi il parco del Po Delta Turismo, quindi una bella collaborazione, i volontari che sono ben 40 e pensa che a Comacchio è stata scoperta casualmente una ventina di anni fa dagli orientisti che sono andati lì a farsi una passeggiata e hanno detto a Comacchio potrebbe essere una bellissima location per l'Orientining, hanno fatto delle prove diciamo di livello regionale, hanno fatto poi altre gare più importanti, trofeo delle regioni e poi siamo arrivati a questo weekend di livello nazionale e con l'arrivo e le premiazioni poi lì nella bellissima zona caratterizzante che è quella dei tre ponti di Comacchio. Primavera intensa per l'orientamento, queste due prove sprint qui a Comacchio, poi ricordiamo tra le altre cose la settimana mondiale dell'orientamento dal 18 al 26 di maggio, come molti orientisti sanno la giornata è nata ormai da un po' di tempo, nel lontano 2016, nel corso degli anni però, l'evento si è ingrandito, si è evoluto da una giornata e è diventata una settimana. Questa settimana, centinaia di migliaia di partecipanti in tutto il mondo, tantissimi eventi e diciamo che è un bello spot per promuovere l'Orientining, anche in Italia ovviamente avremo una serie di appuntamenti, qua in queste immagini aeree si può vedere sia la bellezza della giornata di oggi, la bellezza architettonica e lo sforzo dei concorrenti. Qui Arongaio, un uomo che è sempre presente quando si parla di Orienteering, hai visto che Arongaio è uscito da una porta, una specie di cancelletto, ecco una delle difficoltà oggi di queste per gli organizzatori soprattutto, era far sì che gli atleti trovassero sempre i porticati come qua, i cancelletti aperti, perché magari prima viene fatta... sensibilizzazione sui proprietari che li devono tenere aperti, poi magari qualcuno accidentalmente... E vediamo anche qua, no? Esatto, e questa cosa ti potrebbe falsare completamente la gara, perché se l'atleta successivo arrivasse qui e trovasse chiuso sarebbe un bel problema, quindi grande grande attenzione e tensione, ecco, fino a quando non è finito c'è sempre un'incognita dietro l'angolo, soprattutto nelle sprint. Già da corso Fonzaso, lo stiamo seguendo in questo istante con le nostre immagini, dicevamo della settimana dell'Orienteering, a maggio tra gli appuntamenti club della stagione anche i campionati europei di Treilò, che si svolgeranno proprio in Finlandia, dicevamo presenti qui anche dei finlandesi, dall'8 al 12 maggio, dunque se per il prossimo mondiale c'è ancora tempo, no? Lo sguardo è rivolto comunque a questo imminente campionato continentale che torna a disputarsi dopo l'edizione 2022, un grande evento sicuramente. Sì, perché ora nel Treilò gli eventi internazionali sono alternati, quest'anno ci saranno gli europei, l'anno prossimo i mondiali e a seguire ancora gli europei. Treilò, che è una disciplina molto interessante, come sai, anche perché è una disciplina inclusiva, dove non conta la componente fisica, ma quella tecnica. L'osservazione qua, Maddalena De Biasi, che come dicevamo è in testa, anche in questa, siamo oramai a tre quarti di gara, manca solo l'arrivo. Molto bene anche Scopel, che è lì a ridosso del podio, se la sta giocando con Giacomo Zagonel per 3-4 secondi, ma vedremo se ce la farà. Sempre, sempre invece molto espressivo qua, Samuele Tait, è uno che dà sempre tutto, arriva sempre sfinito sul traguardo, anche se oggi qualche sbavatura per lui viaggia con un minutino di svantaggio rispetto a Mariani, che oggi è un cecchino implacabile. E qui siamo già nella zona degli arrivi per questa seconda giornata di gare, ricordiamo, tra le news, tra l'altro, sempre per quanto concerne le notizie dal Movimento dell'Orientamento Italiano, da segnalare anche che il Trentino Fabiano Betteca, il GS Pavione, la Friulana e i Rispecorari, se mi perdo maniago, si sono laureati a Borgo Ticino, Novara, campioni italiani, eliti, mountain bike, orienting, le discipline all'interno dell'orientamento sono tante, no? Sì, sono quattro, il tre lodi di cui abbiamo parlato, la corsa, lo sci che quest'anno ha un pochino sofferto perché incredibilmente nella fase dove c'erano prefissate le gare c'è stata una mancanza di nere che è arrivata dopo. È arrivata dopo. Arriva Anna Pradel molto bene e dovrebbe essere a podio con il suo 16 e 20 e quindi però se vogliamo completare la trattazione così della stagione, Caterina De Nardis sta anche lei andando molto bene, stesso tempo di Anna Pradel. Il CT, in vista degli impegni più importanti, ha già fissato una serie di testa Gemona del Friuli, ma attenzione, sta arrivando. Anna De Biasi ancora con un gran tempo, anche oggi, eh sì, 15-24, sì, alla grande, anche oggi la ragazza dell'Orienteering Tarzo. Brava. E Samuele Tait, lo vediamo ancora una volta sul traguardo, questa volta un po' più indietro, sempre nelle primissime posizioni, Mattias Coppel che stava facendo davvero bene, va davanti a Samuele Tait. 15-09, potrebbe essere lì, si sta giocando il podio, Elena Pezzati invece direi non bene, nemmeno oggi, strano, arriva Giacomo Zagonel, lui sta andando molto bene, è davanti a Mattias Coppel e a Samuele Tait con 15-05. E' il migliore, ma attenzione, Tobia Pezzati che ha fatto molto bene anche ieri, va davanti a Zagonel, a Scopele e anche a Tait, è primo, ma dobbiamo attendere Francesco Mariani, eccolo qui sul traguardo, il ragazzo della polisportiva Masi e va a sopravanzare tutti. Quindi Mariani, Pezzati, Zagonel, il podio di questa sprint al maschile. Pazzesco Mariani con 42 secondi di vantaggio, addirittura su Pezzati come possiamo vedere qui, ha un tempo strepitoso, 14-05 a 42 secondi Pezzati. Poi Giacomo Zagonel, tra le donne vediamo De Biasi che batte Benla Turakainen e Caterina De Nardis che pari tempo quindi con Anna Pradella. Abbiamo due terze qualificate oggi. Assolutamente. Mariani ancora, Maddalena De Biasi ancora. Qui vediamo proprio Sergio Annesi, il presidente della FISO, ma anche in questo caso siamo andati a fare le interviste ai vincitori e anche proprio al presidente qui le premiazioni. Quindi andiamo a sentire Francesco Mariani, Maddalena De Biasi e Sergio Annesi. Maddalena De Biasi, anche al femminile una doppietta, complimenti. Grazie, sono molto contenta di questa doppietta. Oggi la gara non è andata come immaginavo, però sì, sono contenta comunque. La forma sembra essere buona. Sì, penso che la forma sia tornata e spero di migliorare ancora prossimamente. Francesco Mariani, quando si parla di sprint sei sempre tu, due su due. Sì, è stato bello di confermarsi oggi. Ci voleva una doppia vittoria qui nelle gare, possiamo dire, di casa. Tutta questa gente sul percorso non ti ha spaventato? Devo dire che ho cacciato un paio di urletti, però no, ci siamo abituati gli orientisti a fare sprint come questa. Presidente Annesi, la stagione nazionale dell'Orientieri in parte nel migliore dei modi, 800 concorrenti qui a Comacchio, un sole fantastico. Che chiedere di più? Un successone per gli organizzatori e anche per l'affiso. Credo che sia l'inizio di una buona stagione, mi auguro, all'insegna non solo del bel tempo ma anche dei grandi risultati. Ovviamente l'affiso sta seguendo con estrema attenzione e ringrazia gli organizzatori per quanto stanno facendo in questo momento, ma anche tutti quelli che si stanno preparando per ottenere delle ottime prestazioni nel corso della stagione. Queste le interviste, grazie a Davide Della Corte per l'assistenza tecnica, grazie Pietro Ilarietti, la prima andata. Grazie a te, è stato un grande inizio, finalmente abbiamo rivisto anche un bellissimo sole dopo un periodo di grandi piogge e alle prossime gare con l'Orientieri su RaiSport. E rimanete con i programmi della rete a risentirci, arrivederci. Grazie a tutti.